La complessità dei programmi di finanziamento dell'Unione Europea può rappresentare una sfida. Per partecipare ai bandi europei occorre infatti conoscere le politiche di contesto e le regole di partecipazione. Dal 1998, Europa Facile è il servizio di Arter che affianca la Regione Emilia-Romagna con le ultime novità dall'Unione Europea e approfondimenti sulle politiche, i programmi e le relative opportunità di finanziamento. I servizi principali di Europa Facile sono il sito e le sue newsletter, con contenuti organizzati e di facile consultazione. Una volta sul sito, la navigazione è semplice e immediata, grazie a una nuova piattaforma con grafica e tecnologia aggiornate che permette di ricercare facilmente i contenuti più in linea con i propri interessi. Esplora Europa Facile e scopri le politiche e i programmi dell'Unione Europea di tuo interesse. Grazie. Grazie.